I grandi draghi volanti e sputafuoco ce li eravamo lasciati alle spalle chiusi a lucchetto nelle favole che ci raccontavano da bambini. Ma attenzione, i draghi esistono e non sono tutti cattivi. A guardar bene potremo incontrarli alle giostre o meglio ancora alla National Gallery di Londra, uno dei musei più belli al mondo. Un giorno Paolo Uccello decise di affrontare un tema drammatico come il San Giorgio che libera la principessa dal drago uccidendolo. La storia è a lieto fine, almeno per chi non parteggi, per il drago. Ma Paolo Uccello trattò la cosa in un modo tutto suo e ne venne fuori qualcosa di più simile ad un incontro al bioparco. Avviciniamoci. La tela ha un notevole slargo paesistico di sfondo. A destra la grotta dove il drago tiene segregata la principessa. Ma la giovane, stando alle apparenze, non sembra un granché entusiasta di essere stata liberata. Insomma, stava camminando tranquilla con quel popò di animale, quando all'improvviso le compare dinanzi un giovane cavaliere che, impennato il cavallo, fa il suo mestiere di liberatore di pulzelle. Il drago è un lucertolone innocuo che, trafitto dalla lancia, apre le fauci spiegando le ali. Un drago così per bene non si era mai visto. Se è vero che non esistono più i cavalieri di una volta, non si può neanche camminare tranquilli con un drago al guinzaglio.